Buongiorno a tutti, l'ora dei traversi per aggiornarvi sui miei ultimi lavori, nonché inserimenti della mia pagina sportiva, su Bevedere News ho le benci fra poco in uscita a breve, giocatori veri insomma, che hanno ispirato i vari personaggi del cartoon, tra cui Rivaldo che interpretava, diciamo Rivaldo e Gustav Davids e quant'altro, però insomma l'articolo dovete leggerlo e guardare il video per capire, non ha neanche senso, e i funambuli della Formula 1, l'uomo copertino dell'articolo, i funambuli della Formula 1 sarà, 27 di traverso, insomma, 27, ma chi è su 27 sempre di traverso? Non lo so, io lo invito sempre, i traversi li faccio pure io, su 27 rosso, non lo so, 26, giocatori 27 vi saluta, vi invito a seguire su Bevedere News, sezione sport, nuovi inserimenti, ciao!